ciao buongiorno eccoci qua via il cartello dentro dario falcini che la persona che vedete inquadrata in questa camera sono qui dalla redazione di rock it via ostiglia a milano e siamo felicissimi di tornare in diretta anche dalla nostra casa questo twitch dopo un po di tempo lo facciamo con degli ospiti che introduciamo fra pochissimo e che saranno in collegamento molto numeroso con noi da napoli bentornati quindi su twitch ricominceremo con l'arrivo di ottobre a streamare con tutta la regolarità necessaria per questo nostro bel canale attivato ormai un anno fa a cominciare da un paio di appuntamenti che vado adesso a ricordarvi settimana prossima giovedì il 7 saremo in diretta dal reset festival da torino un festival molto bello molto importante che racconta tutti i cambiamenti che ci sono nel mondo della musica italiana e non di rado li anticipa saremo lì per quattro giorni di seminario con dei giovani giornalisti e streamer e poi alla fine cercheremo di realizzare in modo partecipato una diretta tutti assieme su twitch per raccontare quell'evento molto importante ricominceremo poi anche le nostre dirette settimanali per raccontare il nostro casual friday le nostre uscite del venerdì della musica italiana e poi comincio ad anticiparvi un altro appuntamento che ci sta particolarmente a cuore ossia quello che si terrà fra un paio di settimane i giorni sono il 16 e il 17 di ottobre il luogo da cui andremo in diretta è il circolo magnolia di milano perché è lì che si terrà tough as you il la due giorni organizzata da miami festival rock it e dr martins per restituire alla comunità della musica italiana dopo un periodo molto molto complicato speriamo un po di gioia un po di speranza nel futuro vi stiamo raccontando tutto sui canali di rock it e di miami continueremo a farlo e poi con l'avvicinarsi dell'appuntamento vi daremo anche tutte le coordinate per essere con noi chi potrà fisicamente chi invece non potrà in streaming e sarà una due giorni piena di eventi basta anticipare quello che succederà nel futuro perché stiamo qui e oggi a un appuntamento molto importante anzi in realtà ho sbagliato perché il futuro lo stiamo per incontrare perché da molti punti di vista almeno questo è quello che riteniamo noi il futuro della musica italiana è anche rappresentato dai prossimi ospiti che stanno per collegarsi direttamente live from fuori grotta do il mio benvenuto ai true collective eccoli qua ciao ci siete tutti quanti siete 47 da un sacco siamo benvenuti ragazzi e complimenti è uscito ieri il vostro disco disco moneta è una super bomba ne abbiamo parlato su rock it ne chiacchieriamo abbondantemente in quest'ora assieme e poi ci scriveremo anche qualcosa sul nostro sito io sono Dario tanto piacere ho 37 anni purtroppo e vengo da domodossola sono stato educato mi sembrava importante fare le presentazioni ora servono tutte le vostre ok vai partiamo io sono giovanni giovanni curo il diciamo il sound engineering process del progetto e la produzione io sono la di chi lavoro e canto scrivo faccio queste cose io sono Riccardo e pure io canto e faccio cose in true collective con i miei amici gestiamo poi va dietro anch'io sono Riccardo e sono faccio video musica e in questa occasione sono un po il manager della situazione fruzio e fabrizio in realtà però fruzzo e faccio c'è sono in spp sono peppe sono il socio di pruzio e prova a fare i pezzi anch'io sono l'unica non di napoli sono della puglia importante canto faccio musica scrivo io sono rainer e produco manca solo gabriele ciao sono gabriele e faccio le grafiche i disegnetti e i video con Riccardo allora eravate parecchi però tra l'altro manca anche qualcuno che forse che forse nominiamo giusto il calice che un'altra manca marco e marco forse non avete mai visto perché laura nel becca anche lui è visual artist forse hai visto qualche proiezione sia al concerto qualche foto cioè sia il live l'ultimo live su vesuvio quello precedente a mezzo cannone visual artist un saluto a marco e alice un caro saluto siete un sacco fate cose diversissime avete età anche diverse tra di voi perché passano se non mi sbaglio dieci anni tra il più vecchietto e il più giovanotto e quindi mi viene da chiedervi come come nasce tutto ciò cioè quale astri si sono incrociati perché questo gruppo di persone si mettesse assieme facesse le proprie cose vi parla il buon Riccardo secondo me allora diciamo che un po l'idea iniziale era quella di creare un'etichetta quindi un'etichetta però potesse dare un vero supporto agli artisti indipendenti un po anche della della musica alternativa perché spesso si trovano senza strumenti quali un team che può fare video grafiche comunicazione e curarne l'entità progettuale e quindi questa cosa è nata diciamo con delle intenzioni concrete e poi diciamo che tutto inizia con una lice il primo lavoro è stato alicia con lei abbiamo sperimentato il nostro modo di lavorare per la prima volta e poi gabriele ha pescato specchio paura su instagram sun cloud e da là diciamo abbiamo incominciato poi a fare tutte queste cose con queste dinamiche e quindi sì questo è un po la nascita del collettivo tutto virtuale tutto anche reale perché poi il luogo in cui ci vi trovate in questo momento ossia uno studio un locale a fuori grotta napoli è il vostro headquarter che fate lì dentro ogni quanto vi trovate fateci un pochino vivere respirare questo posto siamo siamo quasi tutti i giorni qui tendenzialmente si fa un po di tutto cioè nel senso stanno due studi di registrazione uno che è anche studio grafico video editing facciamo tutto qua dentro poi una casa di base quindi si creano anche situazioni che sono diverse qualcuno ci vive si dorme si dorme si dorme si buon vecchio squatting si buon vecchio squatting è proprio però in condizioni non in condizioni non così tanto pessime a livello di squat diciamo perché non ci sono più i giovani di una volta vi siete imborghesiti allora arrivano un sacco di messaggi ringrazio tutti quelli che che stanno scrivendo alcuni sicuro sono dei soci vostri che che ci stanno scrivendo tuono 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 non li ho contati ma sono un sacco di tuoni di nonno pepito c'era un certo punto anche un disegno un disegno di un cane emoji qua nella chat che di cui mi sono innamorato perdutamente comunque ragazzi continuate a scrivere anche le vostre domande ai true ne ne faremo tante altre anche noi e ascolteremo soprattutto i loro pezzi e intanto seguite anche la pagina perché di interviste di racconti come questi ne facciamo quotidianamente con i protagonisti della nuova musica italiana veniamo al disco super figo vi faccio complimenti adesso poi non ve ne faccio più se no diventa stucchevole però un gran bel prodotto 20 tracce che sono veramente un flusso che sono veramente una roba senza etichette e non quel senza etichette che adesso si ripete ogni due parole perché fa figo dire e sono un mix di tantissime cose provate a dircene qualcuna di cose che ci avete messo lì dentro quali sono gli ingredienti che avete provato a shakerare che alla fine hanno dato per risultato queste 20 canzoni di base nasce tutto da un processo molto spontaneo che come diciamo si la maggior parte delle volte succede qua siamo adesso fuori grutto insomma niente nel periodo in cui ci siamo diciamo abbiamo trovato questa forma che è quella attuale in cui stiamo suonando adesso quindi con i ragazzi altea abbiamo cominciato a fare della roba che era aveva in ogni pezzo in ogni sessione una dimensione particolare propria di quel momento di quella situazione di quel concetto e poi diventava collante con altre tracce con le altre tracce che sono uscite insomma niente una raccolta delle cose degli ultimi tre quattro mesi ci abbiamo messo tutto praticamente dentro e sono solo tre o quattro mesi sì penso al massimo arriviamo però alcune tracce fasce temporali diverse diciamo rispetto alla produzione le tracce sono alcune tracce ci sono le tracce di alice che sono state fatte proprio all'inizio in alice tipo cose a caso un pezzo che era nato all'inizio era tipo la seconda traccia abbiamo effettivamente registrato e come sì 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 no ma è un flusso che c'è sempre stato anche prima delle tracce cioè la cosa che poi ci ha permesso di rilegarle tutte assieme l'unico fatto perché appunto i pezzi poi tipo cose a caso da lì c'è stato ripescato recentemente è stato aggiunto leo si è aggiunto leo e quindi comunque poi è stato utilizzato per la cosa diciamo che di tracce ce ne sono anche altre che non sono poi più uscite e quindi c'è stata comunque una selezione però la selezione è stata abbastanza semplice da fare sì c'avevo quella sensazione che voi mi sapete di tipi belli prolifici cioè che ce ne avete già altri sette pronti di dischi beh è interessante questa cosa qua che comunque è abbastanza una fotografia del momento per voi questo disco sì diciamo che la definizione che abbiamo usato più spesso per raccontarlo a persone che caso anche prima che uscisse era appunto il ritratto di un anno sembra un po' loco comune però è il ritratto di un anno di quello che si è fatto in studio specifico degli incontri studio perché alla fine è il momento in cui effettivamente si entra in contatto il materiale quindi si registra si suona e quindi questo è quello che ne è uscito non c'era come l'entità progettuale era questa da questo punto di vista cioè fare le cose per come sarebbero venute quindi senza pensare a dover fare cose verso una direzione precisa penso sia chiaro diciamo nel nell'ascolto sì che è una dimensione eh gemmosa che che forse non tutti eh attribuirebbero al vostro tra virgolette genere musicale o più o perlomeno al vostro ambiente musicale e anche alla vostra più o meno generazione cioè è un modo di lavorare che rimanda forse ad altri tempi e ad altri mondi sì per questo per esempio vorrei passare la parola a Peppe e Pruzio che ma anche agli altri perché poi effettivamente eh loro sanno molto bene anche cosa parliamo chi volete ragazzi parla chi vuole tutto libero no tipo per quanto riguarda adesso parlo primanime Peppe insomma abbiamo cominciato facciamo post rock all'inizio sentivamo molta musica suonata poca roba di elettronica che poi è arrivata all'improvviso e quindi abbiamo cominciato un percorso anche capito di eh ricerca nella musica elettronica sperimentale però senza all'inizio senza vocal suonavamo solo strumentali e poi con i ragazzi con Pru ehm abbiamo ricominciato a cantare sulle canzoni abbiamo eh diciamo ci siamo orientati su cose diverse tipo ehm l'ultimo periodo abbiamo ascoltato un sacco di non so se conosci eh conoscete all'XL roba Pan Records roba quindi tedesca quel tipo là di elettronica però comunque spaziamo su su varie cose non abbiamo una linea precisa insomma ci piace ci piace giocare col sound ci abbiamo in testa più un approccio che è un modo di fare le cose di concepirle di sentirle che poi si rispecchia crediamo in quello che facciamo insomma eh insomma magari anche Riccardo vuol dire qualcosa sulle sue influenze eh sì sono molto diverse è diverso anche l'approccio secondo me che abbiamo tutti quanti al al momento creativo cioè questo divertente secondo me è che ha reso unico il il prodotto finale no perché tipo io ad esempio ero molto abituato a scrivere per fatti miei nella cameretta eh concentrarmi mettermi con le cuffie e scrivere scrivere un testo invece ci sta Fabrizio che piglia si inizia a gemmare inizia a luccare con un pazzo e a cacciare strove in freestyle urlare a luccare urlare in freestyle e quindi no si sono si sono uniti diciamo metodi ed approcci diversi e personali che poi sulla stessa traccia e nello stesso nella stessa gem danno un prodotto che effettivamente è unico e particolare perché unisce contesti esperienze influenze diverse e quindi si crea questo questo match particolare che che ha dato vita poi tra l'altro a quest'album no che diciamo rispecchia molto secondo me sia per come è composto e sia per come suona questo questo fatto che siamo tutti un po diversi però poi ci troviamo tutto quanto è ottima risposta ehm allora dobbiamo ascoltarle queste canzoni perché la musica eh poi la parla lontano ascoltarla e mica mica tante o chiacchierarci sopra eh però qui ero kit e e sul nostro twitch mh la parola la diamo sempre prima di tutto eh a chi chi ci ascolta e chi ci scrive per cui vi faccio vi giro subito le domande di alcuni ascoltatori e man mano che le mandate eh le sottoponiamo ai ragazzi questa è di Dan Loreto come si passa a fare la canzone quasi a scherzo con l'amico in camera pubblicare un disco indipendente eh studiare di più trovare le giuste persone che ti fanno fare questo passaggio c'è qualcuno che è ispirato e vuole rispondere a questa domanda rispondo io perché mi sento che questa era una domanda che mi sarei posta qualche mese fa eh ho sempre voluto fare musica nella vita avere possibilità di avere delle persone che mi potessero aiutare a crescere o o che potessero essere la mia famiglia dal punto di vista musicale quindi venendo a Napoli mi sono resa conto che alla fine è molto più facile di quanto di quanto potessi pensare magari era una cosa che vedevo molto lontana riuscire a pubblicare un album o anche solo una canzone riuscire a chiudere una canzone che mi che mi potessi sentire mi appartenesse e questo è stato grazie a loro quindi sicuramente è importante trovare le giuste persone perché l'unione fa la forza e questo è poco ma sicuro allora Altea incredibile e album fantastico ci dice Zimiquel mentre Jumo che ben conosciamo assieme a Tanca vi manda un abbraccione ci sono delle altre domande dai facciamole tutte i vostri genitori ascoltano i vostri lavori Luca Dece si come no come no se la sentono se la sentono almeno per me apprezzano condividono e sono orgogliosi diciamo del percorso artistico che stiamo facendo ci seguono ci apprezzano spingono vengono ai concerti fanno i post su facebook commentano su instagram telestory mi amo risponde sempre sì troppo bella sì molto bellino un amore quindi sì ma credo un po tutti quanti diciamo abbiamo fortunatamente un supporto familiare alle spalle per il nostro percorso artistico che stiamo intraprendendo intraprendendo fico molto bene drone memoria completo su spotify quando laniard ragazzi su spotify ci sono del ah no ce n'è una solo i drone memoria però nella copia fisica boh boh non lo so chissà nella copia fisica c'è altro perché secondo me il momento di drone memoria è stato quello che è passato quindi forse non ha senso non avrebbe senso pubblicarlo come si pubblica un singolo che come dire fruibile per quel momento diciamo quel periodo chi compra la copia e quindi è più affezionato fruisce di chi di ciò che di cui vorrebbe fruire per sempre ho fatto una frase intanto ci torniamo perché arrivano anche altre domande sul fisico il disco prossime robe eccetera eccetera però abbiamo parlato fin troppo dobbiamo ascoltare qualcosa traccia di apertura traccia manifesto giù di lì a cominciare dal nome per voi perché si intitola cantauto ravers ci ascoltiamo boh almeno un minuto e mezzo non so due pure e poi ci ho raccontato allora abbiamo detto che ne sentivamo un pezzo ma non c'era nessun motivo intelligente invece per non ascoltarla tutta questa traccia di apertura ed è quello che abbiamo fatto era cantauto ravers che ci diciamo di questa canzone arrivano un sacco di commenti che mina pezzo a nafta purco due super produzione bellissimi questi commenti prendeteveli tutti e portateli a casa grazie raccontateci un po di questo pezzo appunto dicevamo che è un pochino una traccia manifesto nel senso che il termine cantauto ravers l'avete fatto un pochino vostro anche per descrivere ciò che fate in generale allora mi sentivo di spendere due parole per la traccia perché è stata una mia produzione e appunto l'approccio a questa traccia è stato come abbiamo detto con le altre quindi super diretto infatti non c'è stata nessuna particolare attenzione sulla struttura o sulla durata anche l'auto è un ripoff di un pezzo che era già uscito su soundcloud con riccardo e laghi che si chiama cassetta che è un gran pezzo quindi qual era l'altra domanda su cantauto ravers più in generale so che è una parola a cui tenete abbiamo citato questa cosa perché è stata la prima la prima definizione che c'è stata diciamo appioppata che era ci hanno detto che eravamo dei cantauto ravers cioè un genere nuovo e abbiamo deciso di riprendere il termine e di specificare che noi in realtà non non diamo importanza a nessuna lei per nessuna etichetta e e quindi cioè ci divertiamo solo facendolo era questo la la cosa dai riprendiamo qualcuna delle domande vecchie se no ce le perdiamo in questo in questo feed questa qua da quale pensiero è nata arte moneta e come definireste il vostro rapporto con l'arte veniamo anche a seguito di questa al a ciò che ne viene dopo invece disco moneta ci chiedono del titolo perché raccontateci un po' allora da quale pensiero è nata arte moneta allora arte moneta viene tutto il primo pezzo diciamo che abbiamo fatto io e leonardo con peppe e fabrizio ed è stato pure un po' l'inizio di tutto questo di tutta questa situazione collettiva il pensiero che ci sta dietro arte moneta in realtà era era in un periodo in cui io stavo un po' appicciato con le cervella e trovavo interessante il fatto che appicciato diciamo stavo un po' ma non dovete tradurlo lo capiamo ragazzi e riflettivo su come fosse diciamo sul rapporto particolare che c'è tra l'arte e la moneta siccome l'arte in potenza potesse diventare moneta e quanto però diciamo lo è in potenza però poi nel pratico in quel momento ad esempio non lo era ancora non lo è tutt'ora e quindi sto diventando non i soldi per le sigarette quindi c'è nel senso potenzialmente sto arricchendo mi sto arricchendo di arte che è anche moneta che è un fatto che però ad esempio a mio parere era sporca un po' però in tutto ciò ancora non si è concretizzata questa cosa e poi diciamo che feci sentire questo pezzo a Fabrizio e a Peppe Peppe ci scrisse subito una cosa e me la mandò registrata tipo su com'era registrata col cellulare l'ho fatto sozzissimo ma bellissimo impazzissimo ci facemmo due giorni di session due giorni di session qui a fuori grotta ed uscì ed uscì questo pezzo che che diciamo ha fatto poi quello che ha fatto chiaramente poi è prodotto da Rainer e da Giovanni va detto cioè comunque è partito tutto da Rainer con la sua produzione che mi mandò nella mia cameretta Rainer che lui il nome più speciale del gruppetto l'arte è troppo moneta oggi cosa l'arte e la musica sono troppo moneta oggi mai abbastanza ma abbastanza però anche troppo i soldi sporcano tutto secondo me io ho questa questa idea però sono inevitabili quindi uno deve trovare il modo più semplice per farli e se fare due canzonette è il modo più semplice senza senza andare a lavorare perché io personalmente non mi piace è un'ottima soluzione un ottimo compromesso per campare no invece è questo io così la vedo per me per me deve essere così cioè i miei amici che stanno a lavorare al bar per 2 euro 80 all'ora è un fatto che c'è un sfruttamento capire nessuno ha la percezione di questa cosa chi è che non è d'accordo su questa cosa sentivo qualcuno che che mugugnava si qua mugugnano perché ragazzi dite la vostra sono curioso ragazzi è questo e disco moneta invece come come ne viene figliato da tutto ciò è il match diciamo tra disco di ferro che è un concept principalmente di peppe di specchio paura è un fatto che portano avanti da un po' nei testi è quasi ideale diciamo loro è arte moneta che poi è altrettanto un altro concept che ha un suo un suo peso e quindi quando stiamo cercando il titolo diciamo di dell'album ci piaceva sia l'uno che l'altro abbiamo deciso di fare questo di spezzarli e di unirli per poi creare il disco e voilà che ieri è uscito e che qualcuno vi chiede in fisico come nonno pepito ancora lui il fisico deve rispondere il fisico il fisico vuoi sapere quando uscirà oppure qualche informazione al riguardo quando droppate il fisico è la domanda integrale che ci viene che vi viene posta la data specifica è molto ancora non esistente nel senso che sicuramente nel giro della di questo mese ma anche metà mese il discorso è che sono tutte copie assemblate manualmente voglio far vedere posso far vedere vai figo sono appunto delle copie assemblate manualmente al quinto è brava fai un po' il servizio ma c'è il fuoco forse no vabbè ok copie assemblate manualmente al quinterno ci sono anche altri elementi tipo degli adesivi un poster e questa cosa che vedete dall'altro lato per far vedere ce ne abbiamo una sfusa tipo dalla regia vabbè ma si capisce sì girato dall'altro lato è una schedina usb cioè nel senso c'è un usb e infatti infatti su tale supporto sono archiviate tutta una serie di contenuti extra diciamo che c'è una gran parte di contenuti extra sì ci sono appunto tracce che si trovano solo lì ci sono foto video che descrivono un po' tutto questo periodo qualche estratto dei due live cose cose belline passo questo è carlo pastore chi chiede ma poi perché parlate di disco non è una sorta di playlist allora sì grazie per la domanda è una playlist nel senso che racchiude artisti diversi ehm è un disco nel senso che è stato composto nella stessa sede che sia fisica e anche appunto concettuale nel senso che sarebbe dovuto uscire 20 singoli con descrizioni intendo da un punto di vista grafico e contenuti simili quindi ha avuto molto più senso racchiuderli come un unico disco dai stiamo parlando un sacco dobbiamo far ascoltare qualcosa vado proprio in freestyle io eh non c'è una traccia non sto seguendo un ordine sono 20 canzoni ve le dovete ascoltare tutte da ieri sono su tutti i supporti per cui non chiedeteci un ascolto di quelli proprio fatti ad arte eccetera eccetera ci ascoltiamo qualche canzone e soprattutto facciamo chiacchierare i ragazzi che che è bello averli qua a disposizione eh questa qua che parte tra pochissimo invece è eh mallet sentiremo quindi eh la voce di Altea giusto? Altea veramente complimenti raga stupenda scrive eh Fabio Yoyo Super ne sono arrivati tanti di messaggi li abbiamo fatti vedere anche durante il brano mi associo veramente veramente eh molto bella ehm questa è mullet o mallet eh perché un pezzo dedicato a questo a questa cosa? Boh perché a un certo punto si sono iniziati a fare tutti quanti il mallet ma veramente? Ma dove? è una cosa che che vedevamo spesso è passato tipo Tiger King eh sì ma boh ma no cioè c'è un'estetica che ho diciamo ho concepito a un certo punto e ho visto torna a me la migliore risposta è quella? non? data esatto dice ehm dai diteci qualcosa su questo pezzo che poi recuperiamo un tot di domande arrivate abbiamo eh tipo penso la prima traccia che abbiamo fatto io e Altea assieme eh una sera eravamo a casa di ragazzi ehm praticamente stavamo a suonare e insomma a un certo punto è uscita una prima bozza eh io ci ho scritto delle cose che sono quelle che sentite poi Altea si è aggiunta ehm niente penso penso parli di penso parli di di un periodo di un una sensazione avuta poco prima dell'arrivo dell'estate credo che fosse questo sia per me che per Altea ehm ehm eh questa qua questa è fondamentale spiegate la frase del Bukin please che sono di venerdì con cazzo non si può dire eh immagino perché? no non dico la parola non dico la parola eh posso dirlo davvero Bukin Bukin comunque ma si ma che te ne frega siamo siamo su Twitch vai in Napoletano se dici eh Bukin prima di di dire un'altra cosa è come se sostenessi quella fra enfatizzassi quella tipo ho Bukin e lo stile voglio fare una cosa che abbia un sacco di stile questo è ok è tipo il fucking rit esatto esattamente stessa funzione Bukin Bukinaro in Napoletano significa un ragazzo con tante attitudini un ragazzo con delle capacità questo quindi quando uno adesso ci state dicendo che Bukinaro è un complimento in pratica no a Napoli è così veramente e quando gli dice Bukinara no ok va bene andiamo avanti andiamo avanti ma gli specchio paura sono uno tre finisci questa situazione sono molto più di tre però sono due in realtà sono un esercito ciao un bacio siamo io e il ragazzo dietro la telecamera ok allora queste le riassumo io perché ce ne sono un sacco allora da live sotto l'ilva a live abusivi ai banchi nuovi in generale diciamo che stanno chiedendo tantissimo sulla parte live quando venite in Emilia quando venite a Milano eccetera eccetera in effetti sentirvi live è una roba che stuzzicherebbe parecchio pure me per ora hanno avuto in pochissimi questa possibilità vero? allora noi abbiamo fatto un live diciamo all'inizio c'erano soltanto due tracce a terra infatti durante il live abbiamo suonato le tracce del disco chiaramente l'intenzione adesso che abbiamo un disco è quello di portarlo in giro però il senso è che se no il senso è che se la possibilità lo permette quindi c'è la possibilità di ballare di stare in piedi di vivere effettivamente live liberamente come si vuole a senso può essere più difficile fruire di questo tipo di cose se bisogna stare seduti già noi abbiamo difficoltà cioè se no si è comunque male allora live nel Salento il live a Napoli è storia e sogno questa roba che dite è interessante perché perché è dura resistere forse è giusto anche politicamente resistere cioè il concerto nostro il nostro evento live è fatto così se non può essere fatto così non esiste è una posizione che io condivido dopodiché essendo due anni che i live come Cristo comanda non si possono fare ecco Brandoschi scrive i live seduti sono una merda tantissimi artisti alla fine poi nel corso dell'ultimo periodo sono un pochino scesi a compromessi per la scimmia di suonare voi zero noi chiaramente delle cosette le facciamo appunto perché poi sarebbe insensato non portare in giro sta roba però il concerto diciamo quello l'ha inteso come effettivamente fare la performance la performance la performance dal vivo quindi inteso come quello che effettivamente abbiamo intenzione di fare si potrà fare quando ci saranno le possibilità ci saranno però occasioni a prescindere da questo in cui la musica sarà suonata allora in Germania avete un sacco di fan e vogliono dei dischi per cui organizzatevi con le spedizioni fate quello che dovete fare ma dovete mandare dei dischi in Germania Brandoschi che ce l'ha con i live seduti e che scrive se sento la musica ballo se devo vedere dell'immagine basta vado al cinema però la domanda che invece vi voglio fare questa arriva da quello G e fa il paio con un altro paio almeno appunto di domande che erano arrivate in parte avete già risposto ma vi faccio ririspondere al grande classico chi produce le tracce allora ora facciamo parlare un po' tutti quelli che producono le tracce vai giusto i produttori principali qua in mezzo siamo io Giovanni e Rainer specchio paura chiaramente Altea pure produce e adesso faccio parlare però Rainer che fino ad ora è stato poco presente posso spiegare bene questa situazione nella produzione vai raccontaci Rainer no c'è poco da dire comunque nel senso che producono tutti quanti quando siamo arrivati in un secondo momento tipo io Riccardo la così ho detto vabbè produciamo delle tracce e poi in realtà producono tutti quindi c'è poco da da fare le basi e da inviare ti sei sentito subito messo in discussione sì ho detto non c'è più la cosa io faccio le basi ci canti sopra quindi si è trasformato un po' tutto però di base vabbè c'è Johnny che comunque si gestisce il lato finale anche poi di sound design post produzione di tutto il progetto quindi di base penso che tutto quello che nasce da Drew a un certo punto passa da Giovanni per forza grazie ci dai qualche qualche tua ispirazione a livello di produzioni facci qualche nome dai così ci fai anche capire un pochino il tuo mondo di più vabbè ma cioè dovremmo dire una serie di artisti a testa sarebbero veramente troppi no fai tu sulla parte di basi fai tu il portavoce di tutti e dici tre o quattro quanti te ne vengono ma sicuramente Gianni mi diceva Burial effettivamente perché nell'ultimo periodo che poi è lo stesso in cui abbiamo cominciato a lavorare al disco l'abbiamo ascoltato tantissimo Shlomo a Riccardo piace un sacco Shlomo anche a Peppe anche a Peppe piace un sacco Shlomo vabbè sì Takamasa pure ce lo diamo così mettere Takamasa in mezzo senza niente basta Takamasa Shlomo Limblant Tiziano Ferro ok quale fase di Tiziano Ferro il periodo blu il periodo blu lo sapevo un'ottima risposta no comunque un sacco di cantatori di italiano cioè tipo a casa nostra mia di Ricchi si ascolta un sacco di anche Garella Gaetano qualche pezzo solista di Sano lo troviamo nella coppia fisica no no lo sappiamo ma no poi altre incredibili e voi ascoltiamo un'altra canzone quasi quasi adesso che dite direi dai scegliete voi SP o tempo è dura è dura è l'ultima allora mi pare di aver capito che il vostro disco sta in reverse giusto? si facciamo un sacco di cose ridondanti però dovrebbe parlare Peppe su sta traccia Peppe parliamo di questa traccia? fatelo allora questa traccia nasce dal fatto che la relazione tra me e Fabrizio che premetto io amo da morire spesso non è diciamo rose e fiori e ci sono spesso litigi ed è una traccia completamente prodotta da me e in cui lui non ci ha messo proprio mano ed è semplicemente un messaggio che ci siamo scambiati tra noi due lui l'ha fatto con l'altro pezzo la danza senza genio in cui dico appunto metto la relazione come se fosse un fidanzamento tossico tra virgolette tra molte virgolette e il nostro disco sta in reverse sta per il fatto che il disco non gira nel verso in cui dovrebbe girare spesso quindi va all'indietro e è questo alla fine ma SP cosa significa chiede Luca Dece non significa nulla come le cose migliori no in realtà è specchio paura ovviamente specchio paguro scrive Max Bax non so se è un'idea per un futuro moniker ci sta ci sta arrivano anche dei complimenti dei saluti ad Alice che non è con nome ma che salutiamo è una delle grandi protagonisti del disco disco moneta appunto sono venti tracce noi ne stiamo ascoltando qualcuna andiamo verso la fine di questa live prima avevamo promesso tempo poi alla fine ha vinto SP il ballottaggio e però a tempo c'erano chieste in un sacco di persone e in effetti è un pezzone per cui direi che nel dubbio ce l'ascoltiamo lo stesso anche quella che dite ci si è fermata mannaggia però però abbiamo sentita un pochino era tempo scusate ragazzi ve l'ho tagliata sul più bello a parte una cosa perché sono un boomer questa cosa qua ufficialmente tempo chi ce la racconta continua a entrare e uscire gente che sta succedendo lì c'è un c'è un controllo della guardia di finanza cosa succede no 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 e niente tempo penso il primo pezzo che abbiamo fatto io e Riccardo con Truco con Lette se non mi sbaglio con Riccardo Sano e niente è un pezzo che effettivamente abbiamo fatto tanto tempo fa e mi ricordo che tipo io l'ho registrato in cameretta di Riccardo quando ancora non venivamo qua ed è uno di quei pezzi che poi effettivamente è stato ripreso e abbiamo pensato che Alice potesse dargli effettivamente un apporto bello concreto infatti così è stato un pezzo cioè io ci ho messo molto molto concettuale per me ci ho messo molto quello che penso di chi vuole aggiungere qualcosa non lo so no no vabbè c'è un addio di produzione dietro cioè si sente secondo me quella fa molto poi Leonardo secondo me ha scritto un dio di test è una poesia il testo di Leonardo là sopra io continuo semplicemente a dire che mi piacciono le ragazze con gli occhi azzurri lo ripeto all'infinito così il concetto passa meglio sentite che cos'è Napoli che cos'è la sua storia la sua canzone la sua tradizione il suo modo di vivere di proporre l'arte per voi in che modo entra nella vostra musica Napoli è una cassa che suona per me Napoli è una città molto diciamo si sente si percepisce addosso durante la tua esistenza e durante il tempo che ci trascorri dentro diciamo per la musica rispetto alla musica si influenza perché c'è una grande tradizione musicale seria diciamo che fa invidia secondo me fa artisti incredibili diciamo e quindi a un certo punto devi farci conti semplicemente cioè fai un percorso artistico anche pure di utilità appunto più logistica secondo me Napoli ha giocato un ruolo importante perché la musica che è stata fatta soprattutto poi a live dai napoletani poi penso pure dagli altri però è stata accolta con grandissimo amore e diffusa cioè nel senso c'è stata una diffusione proprio la classica diffusione ascolta sto pezzo soprattutto dopo il live quindi penso che quel calore non so probabilmente con una canzone napoletana a Milano non si potrebbe ricreare quindi chiaramente la canzone napoletana appartiene a Napoli l'altra cosa che vi chiedo è questa se in qualche modo vi sentite una band generazionale rappresentanti di una generazione di parlare a una generazione l'età vostra per quanto diluita su dieci anni diciamo che è più o meno quella però voi lì dentro ci avete e fate convivere approcci molto diversi tra di loro c'è della roba che nel modo di fare di vivere la musica è puramente 90's e della roba che invece è turbo contemporanea c'è un'artigianalità che si fonde assieme alle macchine vi chiedo se avete un tempo e un'età oppure no bella domanda io penso di avercene tantissimo di magari intenzione di parlare a qualcosa a qualcuno che sia non so i miei coetanei quella che è la mia generazione però in realtà quello che mi piace quello che mi è sempre piaciuto quello che cerco è il gusto che prescinde tantissimo dal tempo dalla questione specificamente non so estetica generazionale mi piace pensare che insomma prendo pezzi da più cose per dire più cose che possono parlare a me come possono parlare a a me e basta solo a me io nulla io nulla sia sul sound che sulle tematiche non penso sia solo un discorso generazionale l'influenza e poi anche la ma boh però sia l'influenza ricevuta che quella che poi viene emessa in un certo senso perché non è solo legata alla generazione degli artisti del collettivo ma anche al fatto appunto culturale come diceva Fabrizio di gusto nel senso che Fabrizio ha 17 anni ma le conosce le canze di Bob Dylan penso quindi ci sta comunque un approfondimento che va oltre alla musica che semplicemente ti viene proposta nel 2020 2021 allora continuo con un po' di domande qua ma il fit con i gomma allora ci siamo sentiti con i ragazzi perché perché volevamo cioè noi li abbiamo sempre li abbiamo sempre eseguiti ci sono sempre piaciuti a me a un certo punto quando siamo usciti con le prime cose con true loro stessi ci hanno ci hanno scritto ci hanno espresso diciamo voglia di collaborare su qualcosa perché gli piaceva quello che stavamo a fare a noi ci ha fatto piacere abbiamo fatto una serie di sessioni e quel pezzo in particolare in realtà c'ha solo c'ha solo elementi della strumentale che sono stati fatti da loro non abbiamo non abbiamo registrato effettivamente sono state un paio di sessioni in cui abbiamo suonato sì insomma nulla ci piacciamo vicenda ci ci seguiamo supportiamo è arrivata la tempesta mi piacciono queste domande che io non capisco assolutamente perché sicuramente ci sono in molte di queste degli inside giochi interne io non le capisco mi assumo il rischio di mandare online delle robe potenzialmente tremende però mi piace un sacco sta domanda è arrivata la tempesta arriva dopo il grande fulmine e il grande fulmine non è ancora arrivato quindi no non è ancora arrivata la tempesta ok siamo ancora tranquilli vi piace capibara? sì sì l'ho ascoltato mi piace no capibara è uno hai capibara? ah io credo che si riferisse a capibara ma invece perché non lo so peppe dice che allora sì capibara come animali ci piacciono ah come animali meglio gli animali o meglio il musicista quello che suona suona sì 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 suona è un bravissimo musicista elettronico diciamo sì 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 allora raga abbiamo quasi finito se ci avete delle ultime domande ce le mandate adesso o mai più l'ultima roba la faccio io d'imperio in maniera abbastanza dittatoriale perché prima di chiudere voglio ascoltare cose a caso perché abbiamo iniziato con un manifesto come cantauto ravers e questo cose a caso sin dal titolo almeno per me è altrettanto manifesto perché penso che le cose a caso siano le vere cose preziose della vita e quelle che poi fanno andare avanti e quelle che che danno più gioia perché sono quelle che sono senza grandi obiettivi di partenza o senza grandi ambizioni ce l'ascoltiamo lo commentiamo facciamo i saluti finali e vi lasciamo alle vostre produzioni cose a caso eccola qua era cose a caso ed era l'ultima traccia tratta da Discomoneta che ci ascoltiamo in questa bella chiacchierata assieme al True Collected chi è che è entrato a un certo punto dentro lo schermo sono dei fondamentali collaboratori che operano nell'ombra ok fine immagino che non potremo sapere altro e che non è neanche il caso che noi lo facciamo per voi infatti ma invece siete stati maleducatissimi a non presentare il cane cioè avete detto il cane chiamare Ramone apri la volta apri la volta ora viene ora viene un attimo di Ramone 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 grotta molto spesso è il mio cane da solo a casa non ci può stare chi piange quindi giustamente non si possono far piangere i cani allora saluti da Portici saluti dal Nicaragua e da qualunque parte del mondo avete fan veramente ovunque ne conosco a Mosca come a in Thailandia ragazzi disco moneta lo trovate ovunque su tutti i player eccetera eccetera qua c'è grande curiosità di vedervi live aspettiamo boh che finisca la pandemia o che vi siate abbastanza stufati di non farlo e lo facciate comunque vi aggiorniamo con grande precisione anche per il fisico che stanno aspettando moltissimo e e l'altra cosa poi sono i prossimi pezzi perché dai secondo me è il momento di cacciarne fuori altri già subito così l'intenzione l'intenzione eccola là comunque di con disco moneta di chiudere una sorta di capitolo che è quello là iniziale in cui abbiamo un po' sperimentato questo modo di lavorare ci sta in quanto etichetta o meglio come visione da etichetta ci stanno diversi progetti nuovi anche che ascolterete anche di persone che sono in questa stanza no no ho parlato prima di persone diciamo esterne e poi c'è l'intenzione di lavorare anche un po' più singolarmente su su ogni artista quindi provare a elaborare roba anche un po' più approfondita su sano come solista specchio paura come duo per esempio Alice come solista tra l'altro secondo me è importante salutare e ringraziare tantissimo per il contributo di Alice che non c'è in questo momento perché è a fare altro però anche su cose a caso per esempio Alice secondo me è un pezzo nato con Alice chiaramente secondo me si sente la forza del pezzo voglio chiudere con questa domanda perché ormai mi ha affascinato e anche un po' inquietato questa questione del grande fulmine da chi cosa dipende la caduta del grande fulmine troppo nello specifico vero un po' troppo secondo me io io non so neanche io lo so quindi secondo me è importante certe cose anche tenerle un po' quando arriverai grande fulmine ve ne accorgerete ve lo sapremo ok l'importante è stare pronti ragazzi vi mando un abbraccio grazie del vostro tempo di grazie di essere stati con noi un abbraccio collettivo anche a quelli che non erano presenti ma che hanno fatto parte di Discomonete che fanno parte del vostro progetto a chi ci ascolta mettete un un vi seguo a Rochitte continuate a stare con noi a seguire il vostro racconto grazie un abbraccio grande sì ciao ciao